Gubbio si prepara ai giorni di agosto quando è atteso più afflusso turistico in centro storico e lo fa varando un piano del traffico e della sosta che è già entrata in vigore oggi e che proseguirà fino al 29 del mese, il tutto cercando di conciliare esigenze diverse, quelle degli operatori economici, dei residenti e dei fruttori. Nel dettaglio l'amministrazione comunale ha stabilito dal 6 al 29 agosto la chiusura alla circolazione per i non autorizzati dalle 11 alle ore 6 del giorno seguente dei varchi di accesso alla ZTL di via dei Consoli, via Sabelli della Porta, Porta Castello. Divieto di sosta con rimozione, divieto di transito dalle 11 alle 6 del giorno seguente in corso Garibaldi, tratto tra via Cairoli e via della Repubblica. Divieto di sosta con rimozione in via dei Consoli, via Gattapone e via 20 Settembre, tratto compreso tra Piazza Grande e il Civico 14 nei giorni di venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 20. Divieto di sosta con rimozione in orario 024 presso il parcheggio posto al piano primo interrato della funivia Colleletto e presso il parcheggio regolamentato a disco orario dell'ex seminario ad eccezione dei veicoli muniti di autorizzazione alla sosta in ZTL. Divieto di sosta con rimozione, divieto di transito in piazza 40 Martiri, area dei giardini piccoli tutti i giorni dalle 18 alle 24. In occasione del torneo dei quartieri sabato 14 agosto i varchi di accesso alla ZTL monumentale perimetrale saranno chiusi dalle ore 11. Inoltre dalle 15 alle 24 del 14 agosto in tutto il centro storico è stabilito il divieto di transito e sosta anche ai veicoli autorizzati.